Quella è la procedura, non si può fare. Io voglio dire, prima di tutto dobbiamo fare una cosa, per nominare il vertice di Banca Italia dobbiamo tirar fuori e mettere fuori da Banca d'Italia le banche private, perché oggi Banca d'Italia, la banca che dovrebbe, aspetta, aspetta, poi arriviamo a quello, dovrebbe controllare le banche private, ma dentro Banca Italia ci sono i controllati, quindi il controllore è anche il controllato, e questo dal nostro punto di vista è una follia, quindi mettiamo fuori le banche private e poi riformiamo. Avete dei nomi in mente? No, non abbiamo nomi in questo momento in mente, ma sicuramente abbiamo avuto a che fare con tantissime personalità di altissimo rilievo e il nostro obiettivo, lo vogliamo cambiare sia il governatore di Banca Italia sia il governatore di Consob, perché dovevano sorvegliare e monitorare Banca Etruria quando sono saltati i risparmi di centinaia di migliaia di italiani e non lo hanno fatto. Allora, Pagliaro, brevissimo, prego. Grazie.